Sono salite ad almeno 40 le vittime di un bombardamento su un mercato vicino a Sana'a, la capitale dello Yemen. I raid aerei compiuti dalla coalizione guidata dall'Arabia Saudita hanno colpito soprattutto vittime civili. Nel mirino dell'attacco c'erano tre veicoli su cui viaggiavano dei sospetti ribelli che stavano entrando nella cittadina di Nakil Begailan, che si trova nel nord-est di Sana'a, ma le bombe hanno centrato gli abitanti della zona che si stavano recando a fare compere, compiendo una strage, come denuncia questo ragazzino. Queste sono le ossa di gente innocente che non ha fatto niente di male. La città colpita fa parte della regione dove le forze filogovernative sostenute dalla coalizione araba stanno conquistando terreno contro i ribelli con l'intenzione di marciare verso Sana'a, la capitale sotto il controllo delle milizie sciite Uti dal settembre 2014.